Benvenuti in Dark Rush. La collezione Dark Rush offre una gamma esclusiva di orologi dal design elegante e robusto. Ciò che rende questi orologi veri capolavori è la loro produzione su richiesta presso l'atelier di Christian van der Klaue, uno dei più rinomati maestri orologiai dei Paesi Bassi. Ogni dettaglio degli orologi è curato con la massima precisione, offrendo non solo un accessorio di prestigio ma un'espressione del tuo stile personale. L'uso di materiali preziosi e raffinati contribuisce a conferire agli orologi Dark Rush un'aura di lusso e raffinatezza. Dark Rush è progettato per chi cerca di distinguersi dalla massa e per chi desidera esprimere la propria originalità attraverso gli accessori che indossa. Sia che si tratti di un orologio dal design unico e raffinato o di un accessorio in pelle impeccabile e distintivo, Dark Rush si impegna a offrire prodotti che vanno oltre le aspettative. In sintesi, Dark Rush non è solo una collezione di orologi e accessori in pelle, ma un modo di vivere l'eleganza e l'originalità. Ogni pezzo è una dichiarazione di stile, realizzato con maestria e pensato per coloro che desiderano celebrare il proprio lato oscuro complasse. Scopri Dark Rush, il marchio che ti rappresenta al meglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti.